Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova night session su Ethereum. È venerdì 23 dicembre, sono le 22.03 e volevo fare un piccolo aggiornamento sullo stato anche dei mercati. Ma prima di tutto facciamo una piccola introduzione. Ricordiamo tutti che se qualcuno realizza un'opera originale, e questo video è un'opera originale, ne detiene automaticamente il copyright. Quindi, attenzione, ho visto dappertutto che ci sono persone che copiano questi video oppure li mettono tra i loro video, oppure citano altro, fate attenzione perché state infrangendo il copyright e posso chiedere di far cancellare quello che state utilizzando di mio. Fatta la dovuta precisazione, ritorniamo a noi. Siamo a 188 giorni, su minimo 192 di un annuale. Come avevo già detto nel precedente video, siamo su un annuale che però non è che ci permetta di pensare che le cose andranno bene e che ci sarà una risalita eccezionale dei prezzi. O si inizia a ritornare sopra i 1.677 dollari e poi, a un certo punto, sopra i 2.031 oppure la forma anche soltanto di questo ciclo è palesemente, fino ad ora, o neutrale o ribassista. Peraltro, a quanto siamo arrivati di Fibonacci, lo vi faccio vedere di nuovo per sicurezza, siamo finiti anche per tanto tempo a lambire il 78,6% di discesa. Questo non depone a favore di un ciclo rialzista, questo è già un ciclo neutro che rischia di trasformarsi in ribassista. I target ve l'ho dato la scorsa volta nello scorso video. L'inverso continua a spingere, continua a trovare minimi interessanti, l'ultimo l'ha fatto qui, assoluto, il 9 di novembre e continuiamo a essere molto vicini a questo minimo. Per questo motivo, mi raccomando, fate attenzione. Per quanto riguarda l'annuale può chiudere dal 192esimo giorno in avanti, per chiudere però è necessità di avere la condizione necessaria e sufficiente per una chiusura, ovvero un mensile ribassista. Proprio a proposito del mensile, abbiamo che da qui possiamo o utilizzare la centratura attuale a 28 barre, e se vogliamo un mensile ribassista, e qui siamo su un mensile che è già vincolato a ribasso, che è arrivato solo a 16 barre. Interessante? Ok. Per quanto riguarda la possibilità di avere altre centrature, io come al solito vado a controllare le mie cose e vedo che ce n'è anche un'altra che potrebbe far finire il primo mensile, anzi il secondo mensile di questo nuovo semestrale, e qua, ok, con tutti i crismi, è nella realtà dei fatti, qui abbiamo fatto un minimo a 1150 contro i 1155, quindi sì. Solo che per far partire un nuovo mensile, avremo bisogno altro che di quest'ultima parte qua. Allarghiamo un po' il grafico. Per far partire un vero mensile, un mensile di quelli che violano lo swing di pertinenza, dovremmo perlomeno ritornare qui sopra, sopra i 1351 dollari. Per ora non mi sembra che si stia facendo questo tipo di percorso, peraltro abbiamo tre candele che ricordano un pattern ribassista. Abbiamo sempre d'inverso il primo settimanale che potrebbe essersi chiuso qua a nove giorni e potrebbe iniziare già la discesa, ma sappiamo anche che potrebbe arrivare a 11 giorni a cercare un top, poi anche al dodicesimo potrebbe fare una spike a rialzo e poi però candela rossa e discesa. Per cui è anche possibile un ritorno sui 1258 dollari orientativamente dove passa la media mobile a 50 periodi e in concomitanza di dove passa 1260 il livello inferiore dell'accumo che è questa nuvoletta qua. Poi però esaurito il tempo, ovvero arrivati eventualmente anche fino a, come detto, 11 più spike, però poi candela rossa e partenza dalla candela rossa e di nuovo settimanale, di secondo settimanale inverso, poi da, guardate che roba, da Natale, chiuso Natale, ok, il movimento di salita può purtroppo terminare e può iniziare questo secondo movimento che vi ho già detto di discesa. Lato inverso è questo, ok, abbiamo già tutta la condizione necessaria e sufficiente per partire un secondo mensile inverso e il secondo mensile inverso parte da massimi, torna, va verso minimi, torna su massimi e poi continua ad andare giù così se non si vincola a ritornare qui sopra, come detto anche precedentemente. Le medie mobili si sono mosse, si pensava che potessero andare in Golden Cross, ma invece ha invertito per ora quella rossa, non è un buon segno. Noi riusciamo a superarla da quando siamo piambati giù con la candela dell'8 e del 9 di novembre, abbiamo provato a superarla qui, abbiamo fatto il tentativo migliore qui, il 13 ed il 14 di dicembre, ma poi non riusciamo a recuperare niente. Per cui, mi raccomando, facciamo attenzione. Le sequenze cicliche ci possono dire che, dato che vale qualsiasi sequenza, se abbiamo già un semestrale ribassista e poi abbiamo un mensile che può essere o rialzista o un eutro, in realtà poi quello che può essere partito da qui o che può partire da qui, se vediamo che non ha spinta, come detto, può ritornare purtroppo a me, sui suoi passi, con il target, come ho già detto, finale per l'annuale, che potete andare a rivedere nel precedente video, dove ho già avvisato anche tutti gli holder di Ethereum. Mi raccomando, fate attenzione. Continuo a vedere degli spot della pubblicità di trader improvvisati che vi raccontano che potete fare da 500 euro, perché il taglio è sempre 500 euro, ma io ho mai visto, ok? Da 500 euro andrà a 10.000 euro senza impegnarvi. E' come chiedere a Ethereum di salire senza HFT, volumi, mani forti, eccetera. soltanto con gli holder che probabilmente sono dentro il mercato e sulla cripto in questo momento. Fa abbastanza sorridere, oltretutto, questo rischia di essere un periodo di forte lateralità. Guardate la candela di ieri da massimo a minimo che cosa ha fatto. Qui vedete il massimo e qui vedete il minimo. Guardate. Ha fatto la bruttezza, tra virgolette, di 18 dollari più 38 dollari, 56 dollari di movimento. E niente. Non si può fare trading con una roba del genere, con un trading range del genere. La candela precedente, quella rossa, l'ha fatto di 19 dollari. Cioè, 19 dollari tra massimo assoluto e minimo assoluto della giornata. Quella di oggi, in questo momento, è a 21 dollari di trading range. Quando, in passato, io non so se vi ricordate, ma le candele erano un attimo più profonde, massimo a 2750, al minimo a 2300, 450 dollari, sono un valido trading range per una semplice giornata. E questi erano i movimenti. E prima, adesso c'è ancora qualcuno qui? Perché qui ci stiamo trascorrendo un anno ciclico. E questo è un anetto a livello di onde rispetto a tutti i trading range precedenti. Stiamo ritornando qui? Stiamo ritornando a prima del 2000? Eventi? perché se si ritorna a questi livelli o ci si occupa solo esclusivamente di movimenti macro oppure non si fa più nulla. Ok? La situazione attuale è questa. Anche sui mercati classici il trading range si è veramente ridotto tanto. Sul MIB quest'oggi 161 tx se non mi ricordo male quindi da ridere non si riesce a fare trading in questo modo da domani in avanti figuriamoci il 24 il 25 e non oso pensare a quanto poco basti a spostare di tantissimo anche il prezzo di ethereum mi raccomando fate attenzione. Direi di avervi dato abbastanza tutto finito il movimento a rialzo con target possibili se avrà voglia di ancora andare a rialzo per i giorni che ci siamo detti all'inizio del video ovviamente la media mobile ha 50 periodi che passa attorno ai 1260 che coincide peraltro con il livello inferiore dell'accumo di questa nuvoletta e poi però rischio di tornare a scendere e dato che il primo settimanale del mensile si è vincolato al ribasso e il secondo rischia di farci ritornare sotto i 1150 dollari ok mi spiace essere in questo periodo foriero di notizie non particolarmente piacevoli per chi si aspettava cose interessanti da Ethereum di Bitcoin e d'altro ma come sapete io non posso fare il partigiano non posso fare il fan devo essere imparziale perché un analista quantitativo dei mercati delle cripto può soltanto dare una fotografia obiettiva di quello che gli dicono i cicli i volumi le medie mobile e tutto il resto qui la media mobile diceva che rischiavamo di andare finalmente in Golden Cross peccato che si sia rivoltata sotto peccato che da quando siamo piombati qui sotto come d'aspettativa poi non siamo riusciti ad avvicinarci alla media mobile in rosso abbiamo provato a sfondarla qui è andata male ci siamo ritornati sotto rischia di rimanere la resistenza dalla quale puoi provare degli shot direi che è tutto vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti